Simone e Gian Lorenzi, ospite di casa, che ha raccontato per quale motivo Stefania Orlando ha un rapporto tanto simbiotico con Tommaso Zorzi. Secondo il marito della Queen di Babilonia, la loro amicizia va oltre ogni logica di gioco. Io ti posso parlare dal punto di vista di Stefania. Lei ha una forte personalità ed odia spersonalizzarsi. A costo di essere se stessa, sempre e comunque con le sue idee, ha rinunciato a molte cose nella vita. Il carattere di Stefania è forte ma anche fragile. Lei ha bisogno di sicurezze. Dentro la casa questa cosa l'ha trovata in Tommaso Zorzi. È una cosa profonda, non riguarda il gioco. Di seguito Simone ha raccontato perché ha pubblicato il fotomontaggio del circo con protagonisti Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Ho postato la foto di un circo, intendendo che fosse il grande fratello VIP. Voi ormai un po' mi conoscete, io mi diverto. Sono ironico. Scrivo insulti a mia moglie con il sorriso. Non c'è mai la cattiveria in quello che posto. In quel caso l'ho messa perché mi trovo da tifoso dalla parte di mia moglie e Tommaso. Quando ho visto che non hanno vinto per i papabili finalisti, ho detto che il GF VIP fosse un circo ma hanno fatto come se fosse un sano spottò.